bentornati e bentornate sono green vanship e siamo al dodicesimo episodio di magic rampage dunque proseguiamo la nostra avventura vi ricordo che siamo usciti dal castello e ci stiamo dirigendo verso una palude in cui troveremo una persona la quale ci fornirà le informazioni di cui abbiamo bisogno lo scopo del gioco è sconfiggere il mago cattivo cos'è mamma mia un fulmine verde lì c'è un nemico wow non è bello essere colpiti da quel coso credo allora area segreta scoperta ottimo meglio di così non poteva andare allora perché lasciare le pepite d'oro quando ecco ci ha fatto male dunque anche se non ci colpisce direttamente ma di striscio ci fa male abbiamo imparato una cosa ho un'altra area segreta ottimo la cosa mi piace aspettate non credo ma non si cade credevo che l'area segreta si trovasse sopra ogni singolo blocco invece no allora piano devo calcolare bene il tempo che mi serve per sconfiggere questo mostro e contemporaneamente non farmi uccidere dal dal fulmine ecco mi è fatto male e lui mi ha colpito ebbene abbiamo scoperto che i nemici possono essere sconfitti sfruttando quel fulmine verde la cosa ci piace adesso io me ne rimango sotto quella piattaforma verde così il fulmine non mi colpisce e contemporaneamente mi faccio scudo con il muro di luce e in teoria noi per ora siamo al sicuro bene ho un'altra arma e un diamante questo è il primo diamante che troviamo aspettiamo che il fulmine cada inesorabile bene una armatura e qui abbiamo un maghetto che si diverte a lanciare globuli verdi dei globi verdi allora affrontiamo un problema alla volta si bene e questo è andato qui c'è un'altra armatura che non ho mai visto prima vediamo un po dunque abbiamo un po di armi anche da vendere tunica da mago di fuoco ne abbiamo due sì allora una possiamo venderla così liberiamo uno slot no non volevo sostituire l'armatura volevo venderla allora volevo vendere la tunica da mago di fuoco la vendiamo? sì bene bene poi spada foglia e spada foglia ne abbiamo due una la vendiamo vendi perfetto poi spada nobile vendere? sì perché tanto ne abbiamo due e poi e poi e poi e poi e poi tunica da mago della natura elemento terra ok la c'è una chiave io voglio prendere quella chiave come si fa? c'è un pulsante anzi ci sono due pulsanti dietro i muri e lì sopra i due pulsanti rossi quindi adesso li premiamo via ok bene allora abbiamo la chiave ma la via è chiusa allora abbiamo trovato una specie di area segreta ma non è uscito l'avviso però cioè non è uscito che era un'armatura con l'elemento terra usa un'armatura con l'elemento terra per camminare sulle piattaforme verdi hai capito però noi ci siamo andati fin da subito sulle piattaforme verdi mamma mia che brutta fine com'è possibile forse l'armatura che indossiamo è già un'armatura di elemento terra potrebbe essere potrebbe essere non ho mai controllato ma a quanto pare così altrimenti non riusciremo a camminarci sopra allora con calma con calma vediamo se riusciamo si però non dovevo rimanere qui sotto allora qui in teoria siamo al sicuro perfetto è molto utile quel fulmine molto molto utile davvero ci vuole un po' di pazienza però via 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 ah non mi sono spostato in tempo allora ecco ho paura che non colpisca il il nemico e qui sotto c'è qualcosa qui c'è qualcosa come facciamo a prendere il qualcosa che c'è lì sotto allora intanto occupiamoci dei ragni poi curiamoci perché siamo in fin di vita e adesso dobbiamo raggiungere quel punto questo punto qui questo qui dove c'è il pavimento screpolato come facciamo come facciamo con il martello ecco come facciamo il martello aiuta perfetto benissimo area segreta scoperta però ci ha colpito il fulmine perché eravamo poco fuori poco oltre della piattaforma va bene allora bene anche tu farai una bruttissima fine rimani fermo lì ah un colpo non è stato sufficiente ok allora andiamo con il secondo colpo via cavoli ma è immortale bene bene pepite posso tornare lassù ecco che mi faccio male proviamo con l'armatura da jumpman come non detto ok proseguiamo allora o meglio chi casper la versione cattiva di casper ah abbiamo finito il livello bene ok ragazzi allora con il livello termina qui anche il video grazie per avermi seguito spero vi siate divertiti iscrivetevi al mio canale mettetemi un bel mi piace commentate condividete andate a fare un giretto sui miei social su facebook twitter e instagram trovate come sempre tutti i link in basso nella descrizione a me non resta che augurarvi un buon proseguimento noi ci vediamo nelle prossime settimane con tanti nuovi video ciao a tutti ciao a tutti